10 giornate al termine, 5 punti di vantaggio sulla zona play-out, il Taranto si appresta a vivere il rush finale della stagione con il dichiarato intento di conseguire il prima possibile la salvezza. Le prossime due tappe tuttavia non saranno delle più semplici perché la formazione di Capuano dovrà recarsi da prima a Potenza e poi ad Avellino, dimora interna del Giuliano. Sfide contro formazioni che al pari dei rosso-blu a oggi sarebbero certe della permanenza in C ma che cercano i punti necessari per consacrare matematicamente il traguardo. La tendenza esterna del Taranto è tutta da migliorare, soltanto 9 dei 35 punti attuali sono giunti lontano dalle muramiche, 2 le vittorie conseguite a Pescara e a Messina, 3 i pareggi, vale a dire a Cerignola, Andrea e Castellammare e poi 9 le sconfitte, 23 i gol incassati, appena 7 quelli segnati. Quest'ultimo dato è il peggiore di tutto il raggruppamento C, ma il calendario impone che la squadra ionica dovrà cercare la svolta definitiva proprio in queste due trasferte, partite da non fallire in alcun modo.